Si chiama Gianluca Baldini, 37 anni, laureato, sposato, padre di una bimba ed è il candidato a sindaco di Pescara con la lista Riconquistare l'Italia. Un volto nuovo che è riuscito nel sondaggio del centro a scalzare nomi noti della politica collocandosi in quinta posizione. Io non me l'aspettavo, nel senso che non dico come fanno tanti, no io non l'ho chiesto a nessuno, non è vero, io l'ho chiesto a tutti, l'ho chiesto ad amici, conoscenti, ho chiesto di girare la voce. Ci sono delle persone che io non conosco che iniziano a mandarmi messaggini, mi chiamano e mi fanno vedere che stanno imbucando la lettera col mio e questa è una cosa meravigliosa. Lei si è presentato con un manifesto di grande impatto che denota tutta la sua pescaresità, chi è Cussù, di chi si lufia. Io sono candidato per la lista Riconquistare l'Italia, che è un progetto territoriale che deriva da un progetto nazionale di un partito che si chiama Fronte Sovranista Italiano. Una Pescara sovranista si potrebbe dire. Per fare un esempio di quello che vorremmo noi realizzare a Pescara, una delle cose che abbiamo criticato ferocemente è stata quella dell'esternalizzazione dei servizi, quali per esempio la manutenzione ordinaria delle strade. I due punti centrali del nostro programma afferiscono la salubrità dell'ambiente urbano attraverso una serie di misure atte a disincentivare l'utilizzo dei mezzi privati. La nostra intenzione è quella di creare una strada parco estesa, cioè un corridoio ad uso esclusivo di trasporto pubblico locale e mobilità morbida, lungo la direttrice di Corso Vittorio Emanuele e Via Marconi. Il secondo punto sulla salubrità dell'ambiente urbano sul quale noi punteremo è quello della rigenerazione delle acque.